Ciao! Io sono Elisa Lombardi e ho iniziato a frequentare la Max Ballet nel 2004, ho fatto l'Accademia di Music per due anni, poi ho continuato comunque ad andare e per me sono stati due anni bellissimi, di cui ho dei ricordi indelebili, tra cui il primo provino che io ho fatto in segreto perché i miei non lo sapevano e veramente mi dispiace che non ci sia questa festa in presenza perché vi avrei riabbracciato tutti e io ho solo un cuore pieno di gratitudine verso ognuno di voi e speriamo di riuscire presto a ritornare a fare questo lavoro. Vi mando un abbraccio enorme e grazie!